Pepe, 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 pepe. Capodanno con Carlo e Giorgio a Mestre, al teatro corso 30, 31 e 1. No, io disemmo perché, senta sempre fuori, ah se sapevo che giri a Mestre, ah ma quando sei che veni a Mestre che è meglio vedervi. Eccolo qua, 30, 31 e 1. Eh ma uno disemmo, eh ma il 31 stavo in famiglia. Eh vieni al 30, no? Eh ma il 30, non sei capodanno. Ma è sempre un modo per stare insieme. Oh e se non può essere nel 30, nel 31? E vieni l'uno a pomeriggio, tanto noi altri siamo già qua in teatro. E infatti non si chiameremo già panfianti in massa presto, no io dico poi proseguo, eh che si scalda. Eh e il pandoro se ti versi è se suga. Basta non verserlo e non se suga, resta là il pandoro. Aspetta, aspetta che mi parte lì la gente, adesso. No ma mi pareva di aver sentito un rumore. Dai, magari. Eh il pandoro? Il pandoro non si tocca. Ma perché? No, che non dico un mito. Ma ma mi pareva di aver sentito il succo. No, dai. Il pandoro. 30, 31, uno. Ma è se teatro corso. Ma è se teatro corso. No, non. Grazie a tutti.